Eccoci qua, siamo a Valverde, questa è l'immondizia lasciata dalle burrasche, come vedete alcuni hanno già fatto le mucche, noi stiamo facendo le nostre, il vicino le ha già fatte, là è ancora tutto da pulire, e chi pulisce siamo noi bagnini per la collettività, alla faccia di chi ci tratta come dei ladri.